Questa collana della Newton, grandi, tascabili e codorici. Bertrand Ross, l'introduzione alla filosofia matematica. Eravamo rimasti un libro del 70, 1970. Titolo originale, Introduction to Mathematical Philosophy. Traduzione di Enrico Carone. Prima edizione marzo 1989. Grandi, tascabili e codorici. 1970 Newton. 1970 Newton. Capitan editario. Capitan. Campanile Queste differenze potrebbero essere moltiplicate ad libitum. Quindi il numero dei numeri induttivi è un tipo nuovo di numero, differente da tutti gli altri, e che non possiede tutte le proprietà induttive. Può cadere che 0 abbia una certa proprietà, e che se n la possiede, la possiede anche n più 1. Purtuttavia, può succedere che questo numero non possiede questa proprietà di per sé. Le difficoltà che così a lungo hanno ostacolato la teoria dei numeri infiniti sono largamente dovute al fatto che alcune almeno delle proprietà induttive sono state erratamente considerate, erroneamente considerate, che strafaccioni, Bertrand. Tali da dover appartenere a tutti i numeri. Si pensava quindi che non potessero essere legate senza contraddizione. Il primo passo verso la comprensione della natura dei numeri infiniti consiste nel comprendere pienamente l'eroneità di questo punto di vista. La differenza più notevole ed appariscente tra un numero induttivo e questo nuovo tipo di numero consiste nel fatto che questo nuovo numero rimane immutato sommandoli o sottraendoli 1, raddoppiandolo, dimezzandolo o sottoponendolo ad ogni altra operazione che si suppone rendere necessariamente un numero qualsiasi, maggiore o minore. Il fatto di non essere alterato dalle addizioni di 1 viene usato da Cantor per la definizione di quelli che li chiama i numeri transinfiniti usate transfiniti cardinali Per varie ragioni, però, alcune delle quali appariranno chiare nel seguito, è meglio definire un numero cardinale infinito come un numero che non possieda tutte le proprietà induttive, cioè semplicemente come un numero che non è un numero induttivo. La proprietà, comunque, di rimanere imbutato nell'addizione di 1 è una proprietà molto importante e ci soffermeremo un poco su di essa. Dire che una classe ha un numero che non è alterato dalla somma di 1 E' come dire che se prendiamo un termine x che non appartiene alla classe possiamo trovare una relazione 1-1 il cui dominio è la classe e il cui dominio inverso si ottiene aggiungendo x alla classe Infatti, in questo caso, la classe è simile alla somma di se stessa ed è il termine x Cioè ad una classe che ha un termine in più Cosicché se n è questo numero n uguale n più 1 Non ho capito bene il passaggio Cosicché se n è questo numero n uguale n più 1 Beh, vabbè In tal caso avremo anche n uguale n meno 1 Esisteranno, cioè, relazioni 1-1 il cui dominio è formato dalla classe intera ed il cui dominio inverso è formato da un termine in meno della classe primitiva Si può vedere che nei casi in cui questo succede si ha identità con i casi apparentemente più generali in cui una parte piccola o grande che sia può essere posta in una relazione 1-1 con il tutto Quando questo è realizzabile il correlatore che si usa si dice che è rifletta l'intera classe in una parte di se stessa Per questa ragione tali classi vengono chiamate riflessive Quindi una classe è riflessiva quando è simile a una parte propria di se stessa una parte propria e una parte minore del tutto Un numero cardinale riflessivo è il numero cardinale di una classe riflessiva Dobbiamo considerare ora questa proprietà di riflessività Un esempio tra i più calzanti di riflessività è la illustrazione della carta geografica di Reuss Egli immaginò di fare una carta geografica dell'Inghilterra con una sola parte della superficie dell'Inghilterra stessa Una carta se accurata presenta una perfetta corrispondenza uno a uno con il suo originale Pertanto la nostra carta che è solo una parte sta in una relazione uno a uno con il tutto e deve contenere lo stesso numero di punti del tutto il quale conseguentemente deve essere un numero riflessivo Reuss nota il fatto che la mappa se è corretta deve contenere la carta della carta che a sua volta deve contenere una carta della carta della carta e così via ad infinitum questo punto è interessante ma non ce ne occuperemo ora di fatto sarà bene passare da rappresentazioni pittoresche ad altre definite in modo più completo e a questo fine non possiamo far di meglio che considerare i numeri seriali stessi la relazione di n a n più uno limitata ai numeri induttivi è uno uno all'insieme di tutti i numeri induttivi per dominio ed i numeri induttivi ad eccezione dello zero per dominio inverso quindi l'intera classe dei numeri induttivi è simile a quella classe che si ottiene omettendo lo zero conseguentemente abbiamo una classe riflessiva secondo la definizione e il numero dei suoi termini è un numero riflessivo ancora la relazione tra n e 2 n limitata ai numeri induttivi è uno uno all'insieme di tutti i numeri induttivi per dominio e di numeri induttivi pari per dominio inverso pertanto il numero totale dei numeri induttivi è il medesimo dei numeri pari Leibniz e molti altri usarono questa proprietà come dimostrazione della impossibilità dei numeri infiniti si pensava che fosse contraddittorio e che la parte fosse uguale al tutto questa però è una di quelle frasi che fondano la loro plausibilità su una non intesa vaghezza la parola uguale ha molti significati ma se è presa per esprimere ciò che noi chiamiamo similarità allora non esiste contraddizione perché un insieme infinito può benissimo avere parti simili a se stesso chi crede che questo sia impossibile attribuisce ai numeri quasi sempre in modo non cosciente delle proprietà che possono essere provate solo con il metodo dell'induzione matematica solo la familiarità che abbiamo con queste proprietà ce ne fa credere erroneamente valide anche oltre la regione del finito scusate ogni qualvolta possiamo riflettere una classe in una parte di se stessa la stessa relazione riflettere necessariamente quella parte in una parte più piccola e così via ad ad limitum per esempio possiamo riflettere come abbiamo visto tutti i numeri induttivi nei numeri pari possiamo con la stessa relazione la relazione ciò che intercore tra n e 2n riflettere i numeri pari nei multipli di 4 questi nei multipli di 8 e così via questo problema è l'analogo astratto del problema della mappa di Royce e siamo a pagina 108 di Royce di Royce